è saltata la connessione ricominciamo da capo rapido riassunto delle puntate precedenti facevo un passaggio sul fatto che abbiamo passato la nostra giornata a lavorare sugli emendamenti al decreto cura italia per dare risposte ai cittadini ai tanti cittadini italiani in estrema difficoltà soprattutto economica saranno tra i 150 170 gli emendamenti di fratelli d'italia non vogliamo fare ostruzionismo non vogliamo rallentare l'approvazione del provvedimento ma vogliamo che i provvedimenti siano più puntuali e che possano dare risposte ai tanti bisogni che gli italiani hanno mi permetto di fare un appello che non è solo un appello stiamo lavorando anche su questo sui tempi della burocrazia l'italia non si può permettere la burocrazia che ha sempre visto in questo momento perché c'è gente che non è in grado domani di fare la spesa c'è gente che domani non sa come sfamare i propri figli e quindi è incredibilmente importante che si riesca a combattere la burocrazia e che i soldi della cassa integrazione i soldi dei contributi degli autonomi i soldi che sono stati promessi agli italiani per sopravvivere in questa fase arrivino immediatamente siamo a lavoro anche su questo però dicevo la ragione di questa diretta è sempre l'europa perché quello che è accaduto negli ultimi nelle ultime 48 ore è purtroppo drammaticamente era era purtroppo drammaticamente prevedibile noi per anni vedete abbiamo denunciato la debolezza di una costruzione europea che era molto distante dall'europa delle patrie l'europa della solidarietà l'europa della civiltà l'europa madre di tutti noi quell'europa che abbiamo sognato quando abbiamo ballato sulle macerie del muro di berlino quell'europa che in tanti abbiamo lavorato per costruire abbiamo denunciato per lungo tempo come l'attuale unione europea fosse distante anni luce da quella idea e tutte le volte che lo abbiamo fatto tutte le volte che abbiamo chiesto un'europa che fosse in grado di occuparsi delle questioni serie che non fosse arcigna che non fosse fatta di egoismi che non fosse piegata agli interessi di qualche nazione a discapito dei diritti di tutte le altre qualcuno ci ha risposto che noi eravamo dei pericolosi nazionalisti che eravamo degli autarchici che volevamo chiudere l'italia nei suoi confini che non sapevamo stare nel terzo millennio che bisognava aprirsi che la globalizzazione che la condivisione sarebbero state la salvezza di tutti noi e invece purtroppo da quello che accade nelle ultime ore direi che avevamo ragione avevamo ragione a denunciare un'europa che serviva solo a difendere gli interessi e ad affermare gli interessi della germania qualche volta della francia dei suoi stati dei loro dei suoi soprattutto tedeschi stati diciamo degli stati di influenza tedesca e che questa europa non era un'europa capace di difendere anche l'interesse nazionale italiano i nodi sono arrivati al pettine con il coronavirus perché vedete accade che le crisi siano diciamo una fotografia sulla realtà di ciascuno di noi le crisi tirano fuori la reale natura delle cose e delle persone nessuno me lo toglie dalla testa e sta accadendo anche per quello che riguarda l'unione europea e allora penso che ci dobbiamo dire con chiarezza che se l'europa non serve a nulla neanche adesso se l'europa è addirittura una istituzione all'interno della quale qualcuno in un momento come questo approfitta delle vittime dei contagiati del rischio di povertà della recessione prevedibile delle difficoltà enormi che si stanno affrontando del nemico drammatico che si sta combattendo per pensare di arricchirsi ancora di più allora è destinata a non esistere domani un'europa così è destinata a non esistere domani e noi dobbiamo dirci le cose come stanno perché l'europa adesso decide se vuole avere un futuro lo decide in queste ore lo decide in questi giorni lo decide in queste poche settimane purtroppo fin qui non siamo andati bene anche nell'emergenza coronavirus nell'emergenza coronavirus l'europa ha tirato fuori tutta la sua drammatica inconsistenza a tratti la cattiveria di alcuni all'interno delle istituzioni europee vale la pena fare mezzo passo indietro noi abbiamo avuto un primo momento nel quale l'emergenza coronavirus era un'emergenza presente soprattutto in italia ed era un'emergenza presente soprattutto in italia non perché noi avessimo dei contagi che gli altri non avevano ma perché l'europa era andata in ordine sparso riguardo ai protocolli da utilizzare per prevenire il contagio per individuare i contagiati per individuare le vittime ancora oggi pensate nei vari paesi membri dell'unione europea ognuno decide liberamente come si debbano individuare i contagiati e come si debbano individuare le vittime così ci sono nazioni nelle quali magicamente i contagiati da coronavirus sono più o meno quanti i nostri ma non ci sono morti e ci sono invece altre nazioni che hanno numeri completamente diversi dall'inizio fratelli d'italia ha chiesto di fare chiarezza da questo punto di vista già diverse settimane fa abbiamo chiesto alla commissione europea attraverso i nostri parlamentari europei di fare il tampone il coronavirus a tutte le persone che negli stati membri morivano di cause apparentemente naturali perché non è normale che diciamo dalle nostre parti la percentuale di decessi in rapporto ai contagi sia molto più alta di quella che vediamo in altre nazioni probabilmente accade che nelle altre nazioni non li considerano non le considerano vittime da coronavirus questo ha consentito anche di così puntare il dito verso l'italia per diverse settimane per diverse settimane qualcuno ha utilizzato l'emergenza coronavirus per così per indebolire i nostri prodotti agroalimentari ce lo ricordiamo che in francia una nota televisione francese ha fatto girare uno spot secondo loro satirico nel quale si raccontava della pizza corona una pizza sulla quale il pizzettaio italiano diciamo così starnutiva e quindi una pizza contaminata si è tentato di far passare il messaggio che i prodotti agroalimentari italiani hanno dei prodotti contaminati quei prodotti sono stati fermati alle frontiere con file chilometriche c'è stata in alcuni casi chiesta la certificazione virus free libero dal virus in una prima fase noi siamo stati addirittura derisi in una prima fase siamo stati sicuramente ignorati perché quando il contagio c'era solo in italia quando già l'italia combatteva a codogno quando già l'italia aveva istituito le sue prime zone rosse quando già l'italia aveva le sue prime vittime la presidente della commissione europea ursula von der lion andava in giro a braccetto con greta thunberg a parlare di tutt'altro nelle istituzioni europee poi quando il contagio è arrivato in germania la von der lion ha detto siamo tutti italiani c'è stato un tempo nel quale siamo stati completamente ignorati c'è stato un tempo nel quale l'unione europea ha fatto finta di occuparsi dell'emergenza coronavirus ma fin quando il contagio era solamente in italia l'europa ha investito non speso investito 200 milioni di euro per tutta l'emergenza coronavirus ricerca compresa briciole poi il contagio si è esteso a germania francia e ad altre nazioni allora si è cominciato a parlare di miliardi e dopo essere stati derisi e ignorati a un certo punto siamo stati anche accoltellati alle spalle mentre combattevamo grazie alla banca centrale europea che in un primo momento mentre in tutto il resto del mondo dove è arrivata l'emergenza coronavirus le banche centrali hanno fatto le banche centrali cioè hanno cominciato chiaramente a fare una politica monetaria espansiva che potesse dare copertura agli stati nazionali quando noi abbiamo chiesto aiuto alla banca centrale europea è accaduto che inizialmente la banca centrale europea intanto ha diciamo così messo in mano messo in campo degli strumenti assolutamente inadeguati e che come ho già detto in un'altra diretta la sua presidente la francese christine lagarde ha fatto una gaffe quella che alcuni derubricano come una gaffe ma che per me non è una gaffe nella quale ha detto noi non esistiamo per chiudere gli spread che tradotto significa noi non difenderemo l'italia dalla speculazione non la difenderemo quella gaffe presunta per me frase meditata è costata l'italia 17 punti in borsa in poche ore quindi c'è stato un tentativo di diciamo così peggiorare la situazione in italia nelle stesse ore l'eurogruppo metteva all'ordine del giorno la modifica del fondo salva stati cioè la riunione dei capi di stato europei avrebbe dovuto parlare di quella modifica del mess che noi contestiamo da messi che prevede tra le altre cose non solo che dobbiamo salvare le banche tedesche con i soldi di tutti gli europei quando noi italiani le banche italiane ce le siamo salvati con i soldi degli italiani ma che gli stati che dovessero decidere di accedere al fondo salva stati potrebbero essere costretti a ristrutturare il loro debito ed è evidente che con l'emergenza coronavirus e con i 17 punti in borsa che la lagarde ci ha fatto perdere in qualche ora diciamo il rischio che l'italia debba chiedere aiuto al fondo salva stati si avvicina allora per qualcuno magari può essere un'occasione per costringere l'italia a ristrutturazione del suo debito per mandare così in default alle banche italiane per far pagare ai risparmiatori italiani il default delle banche italiane come prevede il bail in cioè come prevedono le norme europee in materia bancaria e quindi realizzare il grande sogno dei tedeschi che da sempre dicono cari italiani pagatevi il vostro debito con i risparmi dei vostri cittadini mettere in ginocchio l'italia chiudere il cappio attorno al nostro colle a collo e poi venire a fare incetta di aziende asset strategici in italia esattamente quello con quello che è già accaduto in grecia il governo italiano ha giustamente diciamo puntato i piedi il mess per ora diciamo la modifica del mess è stata rinviata ma il tentativo diciamo così di chiudere quel cerchio è stato ovviamente evidente come era prevedibile il governo italiano è andato a chiedere l'attivazione del mess del fondo salva stati mezzo passo indietro che cos'è il fondo salva stati il fondo salva stati è un fondo che esiste da diverso tempo istituito da tutti gli stati membri dei membri dell'euro al quale partecipano tutti gli stati diciamo che hanno unità monetaria e che serve eventualmente per andare in copertura di nazioni che dovessero essere in particolare difficoltà questo perché la banca centrale europea è l'unica banca centrale che non fa la banca centrale cioè che non fa il prestatore di ultima istanza e quindi servono dei meccanismi di compensazione che cosa accade accade che nonostante i soldi del mess siano soldi di tutti gli stati membri per intenderci l'italia ha già versato 15 miliardi di euro nel fondo salva stati si è impegnata a versarne 125 quindi è composto dai soldi di tutti quanti noi però se noi volessimo accedere al fondo salva stati o se chiunque volesse accedere al fondo salva stati ci sono le famose condizionalità quali sono queste condizionalità le condizionalità sono che la nostra politica economica viene di fatto commissariata da questi signori del fondo salva stati che decidono per noi quali sono le politiche economiche che dobbiamo portare avanti per intenderci quando il fondo salva stati è entrato in grecia insieme al fondo monetario internazionale quindi alla lagarde che è stata per due mandati presidente del fondo monetario internazionale la grecia ha dovuto svendere tutti i suoi asset strategici per esempio gli aeroporti è curioso puoi sapere oggi ma sarà sicuramente un caso che alcuni degli aeroporti greci sono in mano ad aziende tedesche ma sarà sicuramente un caso federico fubini non esattamente un sovranista un signore molto autorevole che scrive sul corriere della sera ha detto un giorno io al tempo della crisi greca mi sono vergognato a scrivere che era aumentata la mortalità infantile cioè la grecia ha dovuto subire una stretta così grave che anche la salute delle persone bambini compresi è peggiorata perché di austerità si può anche morire di povertà si muore e il governo italiano è andato a chiedere la possa ha preso in considerazione la possibilità di attivare il fondo salva stati ha chiesto che venisse attivato senza condizionalità non mi è esattamente chiaro come si possa attivare una cosa che prevede delle condizioni senza quelle condizioni semplicemente non la devi attivare che è la proposta nostra facciamo che ognuno si riprenda i propri soldi noi ci riprendiamo i 15 miliardi di euro che abbiamo messo nel fondo salva stati e ci spendiamo quelli perché come al solito non stiamo chiedendo niente a nessuno noi non abbiamo qualcuno che in europa ci sta facendo l'elemosina bisogna sfatare questo mito tutto quello che in europa c'è noi abbiamo contribuito a crearlo in tutto quello che l'europa ha ci sono soldi nostri sacrifici nostri volontà nostra disponibilità nostra noi abbiamo fatto per l'europa molto più di quanto l'europa fino ad oggi non abbia fatto per noi compreso il fondo salva stati fondo salva stati esiste perché c'è qualcuno che ci ha messo i soldi rivogliamo quei soldi molto semplice non è un tema di condizionalità mica condizionalità ci stanno facendo un favore ci vogliono consentire di spendere o non spendere quei soldi alle condizioni che dicono loro sono soldi che ci abbiamo messo noi ce li vogliamo riprendere che è secondo me l'unico modo di utilizzare oggi i soldi del fondo salva stati il governo ha tentato di usare un'altra formula ha detto usiamo il fondo salva stati senza condizionalità sapete che cosa è successo che la germania gli ha riso in faccia ha detto di no poi ci sono leggende di ogni genere si dice addirittura che il direttore del fondo salva stati del mess che è un signore tedesco abbia detto l'italia e la spagna devono devono incinocchiarsi io non credo che l'abbia detta probabilmente l'ha pensata non credo che l'abbia detta ma sicuramente la risposta della germania è stata da questo punto di vista estremamente chiara la germania ha detto ancora una volta noi non intendiamo in alcun modo darvi una mano che tradisce il fatto di considerare il coronavirus una occasione una occasione per indebolirci ancora di più una occasione per avere ancora un maggiore vantaggio competitivo per cui noi non potremo allo stato attuale utilizzare il mess come dice il governo senza condizionalità perché la germania dice di no perché la germania ci lascia intendere che lei non ci vuole fare l'emosina perché loro ci vogliono fare non ci vogliono fare l'emosina io insisto a noi la germania non fa l'emosina questo lo dobbiamo chiarire noi non vogliamo altro che quello che ci spetta noi non vogliamo altro che quello che è nostro non chiediamo neanche la solidarietà che comunque se l'europa esistesse come io immagino l'europa dovrebbe esserci se l'europa esistesse come grande diciamo soggetto politico come grande soggetto capace di solidarietà di condivisione noi questi discorsi non li dovremmo proprio fare ma diciamo che non esiste così vogliamo almeno quello che ci appartiene nessuno ci deve regalare niente ma non vogliamo in una fase come questa dove abbiamo la gente in mezzo alla strada anzi noi in mezzo alla strada nelle proprie case perché non può uscire che non riesce a dare da mangiare domani ai propri figli beh noi non rinunceremo a niente di quello che è nostro per aiutare la nostra gente questo deve essere chiaro l'euro gruppo si è visto ieri e si è parlato anche della possibilità dei cosiddetti euro bond o corona bond che non mi sembra francamente un nome molto felice e anche vedete tutta questa vicenda un po va chiarita perché ci dicono ah ma la banca centrale europea alla fine al bazooka ha deciso di dare una mano ha messo 750 miliardi sì sì la banca centrale europea decide di mettere 750 miliardi per comprare di fatto i titoli di stato delle nazioni che dovessero diciamo essere in difficoltà avere bisogno di fare deficit debito e quindi la banca centrale europea ci compre i titoli di stato bellissimo ma facciamo mezzo passo indietro c'è un'anomalia noi abbiamo da 20 anni la moneta comune perfetto noi abbiamo una moneta comune da ormai 20 anni ma nell'anomalia della costruzione europea a uso e consumo dei tedeschi noi non abbiamo un debito comune il costo del denaro cambia da paese a paese da nazione a nazione e ognuno si emette i suoi titoli di stato la banca centrale europea che esiste sempre grazie a noi cioè esiste una banca centrale europea perché ci sono stati che producono una ricchezza che decidono di avere una moneta unica che dà la forza a quella banca centrale europea per stare lì a pontificare con la lagarde chiaro cioè la lagarde esiste perché noi con i nostri sacrifici con i nostri sforzi con il nostro lavoro con la nostra ricchezza col nostro genio contribuiamo la lagarde a diciamo così a far esistere la banca centrale l'euro e quindi la banca centrale europea e quindi la lagarde questa signora che ci viene a spiegare che lei non è lì per come ha detto chiudere gli spread quindi non è lì per darci una mano in ogni caso la banca centrale europea compra i nostri titoli di stato bellissimo grazie tutto molto interessante ma non è che stia facendo niente di che adesso parliamoci chiaro è sempre debito nostro problema nostro banca centrale decide quando apre il rubinetto la banca centrale decide quando chiude il rubinetto e il debito noi ce lo ripaghiamo da soli non è una grande no diciamo solidarietà condivisione quanto è bella questa europa che ci dà una mano come ci raccontano questi euro in omani che anche in queste ore continuano perché qualcuno sopravvive molti stanno purtroppo crollando perché poi le persone con un minimo di buona fede si rendono conto che tutto quello che hanno raccontato per decenni era diciamo così campato in aria sulla solidarietà europea quanto ci serve l'europa quanto è bella l'europa quanto è brava l'europa qualcuno invece che ancora è tenace tipo più europa che giustamente siccome si chiamano proprio più europa se adesso dovessero fare conti col fatto che diciamo st'europa non è che sia stata proprio una grande solidarietà e mi rendo conto che dovrebbero sciogliere il partito e quindi va bene però diciamoci la verità si discute di euro bond perché perché l'euro bond è un passaggio ulteriore è il passaggio di emettere titoli di stato non nazionali ma europei quindi l'europa affronta questa crisi condividendo i rischi condividendo i sacrifici condividendo il destino ora sapete che cosa è successo all'euro gruppo di ieri è successo che praticamente tutti gli stati i capi di governo di tutti gli stati membri di quasi tutti gli stati membri dell'ue compresa la francia quindi compreso macron hanno scritto una lettera per chiedere l'attivazione di questi euro bond che loro chiamano infelicemente secondo me corona bond comunque dei titoli di stato europei che vengono emessi in questa fase la germania ha detto di no ha detto di no la germania che chiaramente non vuole rinunciare al suo vantaggio competitivo perché che vuol dire il l'euro bond l'euro bond vuol dire che non esiste più lo spread che non c'è più il differenziale tra quanto sono belli i titoli di stato tedeschi e quanto sono belli i titoli di stato italiani non c'è più quel differenziale quindi la germania quel vantaggio competitivo non c'è più quindi la germania ha detto di no l'olanda ha detto di no l'olanda ha detto di no una serie di altri stati vassalli hanno detto di no e voglio dire la domanda che mi faccio è ma è normale è normale che la possibilità di in una crisi senza precedenti insomma no almeno dalla fine della seconda guerra mondiale per il continente europeo ci siano una due tre nazioni che valgono più di tutte le altre e che sono proprio quelle nazioni che più hanno diciamo diciamo le cose come si hanno lucrato sulla costruzione europea in questi in questi anni in questi decenni la germania che ha avuto la fortuna di avere il cosiddetto euro che era una di fatto un cambio di nome del marco tedesco vantaggio che ha avuto la germania in questi anni con l'euro e che l'euro non era una moneta agganciata sulla media dell'economia europea era il marco tedesco a cui avevano cambiato nome e quindi era agganciata la forza dell'economia tedesca e questo ha fatto sì che chi era forte diventato più forte che era debole diventato più debole e la germania se ne è avvantaggiata chiaro si è avvantaggiata dell'euro l'olanda vogliamo parlare dell'olanda paradiso fiscale in europa l'olanda è una di quelle simpatiche nazioni che ci vengono a fare la morale ma che intanto a casa loro hanno attivato un paradiso fiscale cioè una di quei posti nei quali le aziende che non vogliono pagare le tasse negli stati membri si vanno a nascondere così loro drenano risorse dagli stati membri però poi vengono da noi e fanno i falchi ci fanno i falchi dell'austerità ci fanno quelli del bisogno a rispettare le regole ci fanno quelli del dobbiamo essere seri gli olandesi uno dei principali paradisi fiscali europei io ho detto a giuseppe conte l'altra sera per favore vai in europa e chiedi intanto subito l'attivazione di sanzioni contro i paesi dell'unione europea che attivano dei paradisi fiscali perché quello vuol dire fregare gli altri stati membri è una truffa chiaro e quindi le truffe si sanzionano a casa mia l'olanda ha detto di no agli euro bond la germania ha detto di no agli euro bond e quindi tutto si è impantanato e anche su questo non si è deciso niente governo si sono presi dieci giorni per decidere per vedere se esce qualcosa di buono da questa europa e tra dieci giorni di fatto noi sapremo se l'europa ha un futuro oppure no però io penso che tutti quanti dobbiamo essere consapevoli del fatto che questa europa così è esattamente quello che raccontavamo noi non una grande occasione ma una grande un grande egoismo nel quale qualcuno si è arricchito e tutti gli altri si sono impoveriti noi pretendiamo che questa europa che abbiamo contribuito a creare che abbiamo foraggiato che abbiamo diciamo si aiutato a crescere e che in cambio ci ha dato ben poco oggi nella peggiore delle ipotesi ci restituisca quello che è nostro noi vogliamo quello che ci spetta nessuno ci sta facendo l'emosina e non siamo abituati a chiedere l'emosina noi siamo persone abituate a lavorare a fare quello che devono fare a rispettare le regole e a essere serie pretendiamo dagli altri la stessa serietà verso di noi senza senza l'italia l'europa non sarebbe esistita senza l'italia l'euro non sarebbe esistito nessuno ci fa la carità chiaro pretendiamo quello che ci spetta ed è quello che il governo italiano deve dire e continuare a dire in europa perché ormai se ne sono resi conto tutti 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 hanno capito che qualcosa non va addirittura mario draghi uno dei grandi diciamo così così rappresentanti dell'ortodossia europea ha fatto un'intervista sul financial times due giorni fa o ieri credo addirittura ieri per dire signori qualcosa nell'austerità non funziona bisogna fare debito messaggio secondo me rivolto ai tedeschi evidentemente anche lì ci si è accorti che qualcosa non funziona poi diciamo da un esponente del mondo bancario ex presidente della banca centrale europea una persona di quella levatura diciamo che io mi sarei aspettato anche diciamo un ragionamento più puntuale sì debito siamo tutti d'accordo che va fatto debito poi avrei voluto che sul tema per esempio gli euro bond no si fosse più chiari più precisi poi vedo che tutti quanti stanno così sventolando bandiere con la col volto di mario draghi io sono una persona abituata a farsi le domande mi chiedo sempre insomma diciamo si sarei prudente ecco una persona della levatura di mario draghi non non decide di fare dichiarazioni di quel tipo così a caso quindi diciamo che prima di sventolare le bandiere sono abituata a cercare di avere chiaro il contesto il quale mi trovo ma questa è tutt'altra vicenda il punto qui è che l'europa è stata costruita da tutti l'europa appartiene a tutti le risorse che noi abbiamo messo nell'europa oggi le dobbiamo usare per i nostri cittadini non chiediamo regali non chiediamo elemosina chiediamo rispetto della nostra gente rispetto della nostra nazione gli italiani hanno bisogno in questo momento di essere aiutati dallo stato lo stato deve fare tutto quello che può per aiutare queste persone ad arrivare alla fine del mese e ad avere fiducia del proprio futuro a ricostruire non ci servono particolari aiuti ci serve di poter avere quello che ci appartiene e l'europa deve decidere in questo momento se vuole esistere oppure no la germania deve decidere lo dico chiaro e tondo se vuole rinunciare a qualcuno dei suoi privilegi quei privilegi che le hanno consentito di crescere a dismisura sulla pelle di tutti gli altri stati membri o se preferisce la dissoluzione dell'europa che significherà anche dover rinunciare a tutti quei privilegi la germania lo decide in queste ore e chiaramente se ne assume la responsabilità credo che bisogna continuare a sostenere con forza i diritti del popolo italiano gli interessi nazionali italiani se avessimo cominciato a farlo qualche tempo fa probabilmente sarebbe stato oggi tutto molto più facile forse l'aver avuto per decenni classi classi politiche che stavano lì semplicemente a aspettare la pacca sulla spalla dal tedesco dal francese di turno non ci ha aiutato oggi a far valere i nostri interessi i nostri diritti ma noi pretendiamo che oggi quei diritti e quegli interessi valgano perché siamo in una condizione molto difficile e non ci possiamo permettere più di giocare vediamo che cosa accade nei prossimi giorni e nelle prossime ore e faremo ovviamente le valutazioni che servono vi ringrazio per avermi seguito vi ringrazio per il sostegno vi ringrazio per i messaggi che arrivano li leggerò come sempre dopo la fine di questa diretta e ci sentiamo il prima possibile quando abbiamo delle novità viva l'italia